buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fanu tv dopo ferragosto riprendiamo la lettura dei giornali con la quale con la quale iniziamo la giornata permettete questa mattina di salutare un piccolo amico di questa nostra trasmissione si tratta di oscar un bambino che si sveglia presto al mattino e quindi segue anche la nostra trasmissione buona giornata oscar benissimo buona giornata anche a tutti voi e come al solito cominciamo con l'almanacco del giorno vediamo oggi chi si festeggia santa beatrice de silva era una portoghese visse nel quindicesimo secolo era imparentata con la famiglia reale del portogallo monaca nel convento cistercense di toledo fondò l'ordine della immacolata concezione questa è santa beatrice de silva ed ora vediamo le previsioni del tempo dico subito che il tempo rimane come fotocopia rispetto ai giorni scorsi vediamo il sole che così insomma caratterizza tutta la regione marche bel tempo con cielo per lo più terzo e venti a regime di brezza termica temperature massime comprese tra i 20 gradi che era la minima e i 30 33 gradi per quanto riguarda la massima i tempi i venti scusate spireranno con una tensione media sulle coste da nord nell'interno con una leggera deviazione da nord est il mare non è mosso e questo vediamo se ce lo conferma la signora laura tamburini della concessione mare mio di senigallia buongiorno signora buongiorno buongiorno a tutti allora il mare com'è questa mattina il mare calmo vediamo il sole lei in controluce ma l'immagine molto bella devo dire perché il sole sta venendo su dall'orizzonte dietro di lei com'è il mare stamattina il mare calmissimo stamattina proprio è una tavola quindi si sta bene in spiaggia c'è anche una leggera brezza vero sì stamattina in realtà è un po' freschino adesso quest'ora forse sarà dovuto all'orario presto è un po' fresco in realtà sì però la giornata si prespetta calda quindi è giusto l'inizio della mattinata della giornata questo siamo veramente contenti di averla ospite nella nostra trasmissione le chiediamo come è andata che cos'è dietro di lei la rotonda la rotonda di senigallia quindi un posto veramente molto bello quello sappiamo che in questi giorni senigallia è stata veramente affollatissima di turisti è andata abbastanza bene rispetto ad altre località dove si è così sentita un sentito un certo calo di presenze ma in realtà il calo di presente c'è stato anche qua soprattutto giugno e i primi di luglio da metà luglio la spiaggia si è affollata diciamo che adesso si lavora abbastanza bene anche se la stagione sta volgendo il termine sì beh speriamo che duri un pochino anche nel mese di settembre perché quando c'è il tempo bello settembre veramente un mese ideale per andare in vacanza volevo chiederle come è andato il ferragosto per agosto è stato pieno di gente ovviamente come tutti gli anni si sta in pienone si lavora parecchio abbiamo offerto un aperitivo ai clienti la mattina prima di pranzo è stata parecchia solle diciamo ecco oggi siamo il 17 di agosto tra il 15 e il 17 c'è stato un calo precipitoso oppure ancora la gente frequenta le spiagge no no ancora c'è parecchia gente anche ieri eravamo al completo e fino a domenica diciamo che siamo al completo poi da lunedì parecchie persone ritraendo il lavoro e quindi torneranno nelle proprie educazioni e le proprie località sì perché poi poi riaprono le fabbriche insomma si ricomincia il lavoro e magari si pensa un po' ad altre cose benissimo signore io le auguro noi lavoriamo le auguro una buona giornata ci lavoriamo anche molto sì va bene anche voi grazie ci risentiamo domani grazie a risentirci allora apriamo le nostre le nostre pagine sul Corriere Adriatico questa mattina vediamo l'apertura sul sulla pagina di Fano dove vediamo un episodio veramente dequalificante si è verificato uno simile e nei giorni precedenti si parla di un danno vandalico nei confronti delle strutture pubbliche delle dei monumenti anche della città dopo quello che si è verificato nel sottopasso di Viale Cairoli vediamo che sono state deturpate il 5 agosto scorso le mura romane deturpare un muro già è una cosa molto molto brutta ma deturpare le mura romane che sono un monumento quasi unico le mura romane di Fano sono il secondo monumento per estensione più importante dopo le mura di Roma quindi deturparle veramente è un atto oserei dire sacrilego ma per una religione laica questa la regione della cultura vandali sfregiano le mura romane identificate ed identificati e denunciati quattro giovani per fortuna sono stati identificati con una indagine compiuta in collaborazione dai carabinieri di Fano e dalla polizia locale hanno visionato le telecamere che sono state posizionate proprio a tutela del monumento ma individuarli non basta bisogna anche identificarli e questa è l'operazione più difficile ma grazie alla conoscenza del territorio e l'esperienza degli inquirenti sono stati individuati i quattro soggetti che hanno deturpato le mura si sono avvicinati con della vernice di colore arancione hanno tracciato dei disegni delle scritte c'è un grande teschio con le quattro ossa che lo identifica e poi se ne sono andati sono quattro soggetti senza dimora è stato anche questo più difficile identificarli che ora sono stati denunciati e veramente corrono diversi rischi perché la normativa che punisce questo reato è stata proprio recentemente incalzata è stata resa ancora più gravosa quindi sconteranno almeno dal punto di vista pecuniario il loro reato dovranno insomma ripristinare il reale stato dei luoghi un articolo a fondo pagina del Corriere Adriatico evidenzia come l'amministrazione comunale abbia dato un incarico a una società per valorizzare il simbolo di Vitruvio per Fano quello che Vitruvio rappresenta sappiamo che sono in corso degli scavi molto molto interessanti nella via intitolata proprio all'architetto romano dove si stanno ancora trovando prove che dovrebbero insomma avvalorare la identificazione del sito e appunto Vitruvio acquista sempre più un'immagine qualificata a livello nazionale e oserei dire a livello internazionale la società a cui il comune ha dato l'incarico di valorizzare appunto dal punto di vista della comunicazione questo emblema è Sinopia società specializzata che si è già occupata di seguire il progetto di riordino del museo civico con cui il comune ha concorso al bando per la rimozione delle barriere fisiche cognitive sappiamo come in questo è rientrata anche il nuovo assetto della corte malatestiana e quindi questo incarico dovrebbe ancora di più dare forza e dare valore attrattivo all'immagine di Vitruvio ma oggi è un giorno importante per quanto riguarda una grande manifestazione che caratterizza Fano nel mese di agosto si tratta del paese dei balocchi che si svolge in piazza bambini del mondo che bello questo titolo di una piazza a bellocchi le chiavi della città a insegno pino insegno che è il sindaco del luogo da favola dice oggi il corriere adriatico si apre il paese dei balocchi quattro giorni di eventi non solo per bambini con la consegna delle chiavi e del paese dei balocchi e della fascia sindaco oggi alle 21 e 15 sul palco giardino verrà appunto istituzionalizzata la carica a pino insegno di sindaco del paese dei balocchi una carica emblematica che valorizza un personaggio che si un noto attore un noto doppiatore un noto conduttore televisivo insomma pino insegno lo conosciamo ma non conoscevamo la sua propensione alla solidarietà infatti è un attore che si è impegnato molto per animare e portare un sorriso ai bambini ricoverati nei riparti oncologi che proprio questo è stata un po la scelta decisiva che ha fatto di pino insegno il nuovo sindaco del paese dei balocchi e in precedenza è stata luca barbarossa poi ancora toni bugaro insomma sono stati veramente 19 e i sindaci del paese dei balocchi tante quante sono le edizioni di questa bella manifestazione quindi mi raccomando questa sera portate i bambini nel mondo magico del paese dei balocchi tutto ispirato a pinocchio c'è una bellissima atmosfera si ritrovano i luoghi di tutta la fiaba ma è una manifestazione anche per adulti perché poi ci sono commedie ci sono concerti c'è una buona gastronomia e quindi tutte le famiglie possono veramente passare una bella serata da oggi fino a domenica per un giorno Fano sarà capitale della breakdance all'arena BCC sabato una delle tappe europee di qualificazione ai mondiali addirittura è l'unica che si svolge in Italia l'appuntamento dunque per sabato quando Fano sarà la capitale della breakdance infatti l'arena BCC di tre ponti ospiterà l'unica tappa italiana di qualificazione ai campionati del mondo che si svolgeranno a Taipei in programma il 9 settembre prossimo sarà il succosissimo antipasto dell'evento che gli appassionati attendono con sempre più ansia quello del 2024 quando la sua quando questa disciplina farà la sua entrata nei giochi di Parigi nei giochi delle olimpiadi ed ora passiamo alla Val Metauro dove vediamo che ci sono risorse finanziarie per la scuola primaria di via Cairoli la scuola occhialini si tratta di soldi che provengono dal PNRR per l'efficientamento sismico tra PNRR fondi comunali disponibili 4 milioni di euro per l'edificio di Viale Cairoli a Fossombrole a fondo pagina abbiamo un batti e ribatti tra centrodestra e centrosinistra per quanto riguarda l'ospedale di Fano il ruolo dell'ospedale di Fano e oggi la segretaria provinciale del partito Rosetta Fulvi avanza una serie di interrogativi proponendosi nei confronti del centrodestra per chiedere che cosa diventerà l'ospedale di Fano quali saranno le specializzazioni che saranno che costituiranno il servizio ospedaliero e di questo ancora il piano sanitario regionale non ha reso ancora un'informazione adeguata secondo appunto la Fulvi A Cagli festa di paura sulle Nerone una donna soccorsa a Fondarca recuperata dal soccorso alpino nella stessa zona dell'escursionista ha salvato il giorno prima si tratta di una zona impervia la donna era rimasta infortunata con un dolore ad una caviglia non riusciva più a camminare e una donna di 58 anni cadendo a terra si era procurata un trauma distorsivo appunto alla caviglia e quindi è stata soccorsa dal soccorso alpino e vediamo anche la pagina di Senigallia il Grande Fratello la trasmissione su Canale 5 che ricomincerà nel mese di settembre oggi è in fase di reperimento dei protagonisti degli interpreti il Grande Fratello ha fatto le selezioni alla rotonda di Senigallia nell'attesa del giallo e delle fiere da oggi la tappa senigallese per la selezione del reality ormai però sono chiuse, le iscrizioni sono chiuse perché ci è subito esaurito il numero a disposizione martedì lo spettacolo dei fuochi di Artificio e anche a Senigallia abbiamo visto prima la concessione di Laura Tamborini di Mare Mio continua anche nella seconda parte del mese di agosto con tutte le sue manifestazioni, con tutte le sue attrazioni e con tutta la sua magnifica spiaggia di Velluto adesso basta, le strutture sono piene la nostra disponibilità non è infinita ebbene si parla dello sbarco degli immigrati nella nostra regione ad Ancona ne sono arrivati 400 secondo quello che dicono ad Ancona 400 profughi in due mesi sarebbero troppi ho parlato poco fa con il sottosegretario all'interno Emanuele Prisco quasi 400 profughi in due mesi cominciano ad essere un dato importante lo ha detto il sindaco Daniele Silvetti che insieme al prefetto Darko Pellos al questore Cesare Capocasa è stato presente allo sbarco in porto di altri 106 migranti che sono arrivati appunto dalla Tunisia ed ora diamo un'occhiata sempre sul Corriere Adriatico per quanto riguarda le pagine pesaresi vediamo che si controlla la tranquillità la sicurezza nella zona a rischio dove possono accadere tanti infortuni c'è stato un blitz notturno in spiaggia troppi bivacchi selvaggi falò a rischio di incendio la Capitaneria fa sgomberare sotto il San Bartolo dopo le segnalazioni ricevute c'è stata dunque un'operazione sicurezza e prevenzione sulle spiagge nel giorno del ferragosto monitorati i tratti di arenile libero e il San Bartolo soprattutto la spiaggetta di Fiorenzuola di Focara e nella notte è scattato il blitz della guardia costiera via mare per i fuochi accesi a ridosso della falesia ancora continuano questi atti di imprudenza da parte dei bagnanti nonostante quello che è accaduto su San Bartolo ricordate il grande incendio che ha devastato Ettari di Bosco e di Boscaglia e guardate chi c'era a passare il ferragosto a Baia del Re il giornale dice tra Pesaro e Fano direi più Fano che Pesaro Rossi e Cremolini al mare super coppia di agosto hanno trascorso insieme la giornata nella zona di Baia del Re questa non è Ibiza però insomma è una bella spiaggia un bel paesaggio ed è l'occasione di trascorrere una bella vacanza in tranquillità ebbene ovviamente la presenza di Valentino Rossi e di Cesare Cremolini che hanno trascorso un bel ferragosto marchigianissimo e quindi proprio io dovrei dire anche fanesissimo uno spot spontaneo al turismo delle marche la presenza di questi big ovviamente attira anche curiosità e fa promozione del nostro turismo incidente in moto ferito l'anzilotta doveva dirigere nel festival di Pesaro la Adelaide e purtroppo non glielo farà era appassionato di moto Francesco Lanzillotta ma è rimasto coinvolto in un incidente stradale e si è procurato delle fratture e contusioni tanto da non poter dirigere le prossime recite di Adelaide di Borgogna dove era sul podio dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno nella messa in scena di Arnaud Bernard e dovrà essere sostituito all'oggi alla corte dell'Almerici più tutela al pregio del palazzo appello del comitato e sovrintendenza comune e progetto di recupero per questo grande palazzo che è prossimo alla biblioteca di Pesaro che dovrà essere appunto ristrutturato siamo in una via importante una via storica per quanto riguarda il centro storico di Pesaro che sta per essere qualificata piano piano lo era molto degradata in passato ed ora viene recuperata vediamo anche la pagina di Urbino dove si parla di una protesta pronti a bloccare l'eccesso all'eremo in realtà non si parla della città ducale ma si parla di Carpegna la diocesi da cinque anni ci ha dimenticati non partono i lavori al rifugio strategico per l'economia di Carpegna salta forse la festa del 20 agosto ebbene può essere perché i residenti sono veramente arrabbiati migliaia di pellegrini che ogni anno la terza domenica del mese di agosto onorano con la camminata del risveglio la beata vergine del faggio potrebbero il 20 agosto trovare chiusa la strada che porta all'eremo di Carpegna ad alzare le barricate sono i cittadini della frazione di Monte Boagine che tappezzando di manifesti il viale d'accesso alla struttura vogliono ricordare alla diocesi proprietaria dell'area quanto sia impellente accelerare i tempi della ristrutturazione del rifugio un rifugio che attende appunto questo intervento ormai da troppi troppi anni ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico e vediamo il resto del Carlino l'apertura sulla pagina di Fano è dedicata ai vandali delle mura romane ora dovranno risarcire come abbiamo detto dopo l'inaspiramento delle leggi quattro sono stati denunciati e rischiano anche condanne penali l'assessore Cucchiarini fondamentali le telecamere di videosorveglianza come lo sono state per individuare il vandalo che ha deturpato i pannelli che decorano il sottopasso di Viale Cairoli anche qui le videocamere sono state fondamentali per individuare ormai ragazzi non fate più questi danni perché poi li scontate ormai tutta la città è osservata dal grande fratello quindi cerchiamo di evitare questi atti che sono del tutto gratuiti tentano di rubargli in negozio e lui mette le foto sui social è una piccola rivalza sui generis fatta da un imprenditore che si è sentito anzi è stato veramente danneggiato da un furto è successo nel pomeriggio di Ferragosto ad Aquashop in via Pisacane il titolare ho risposto con la stessa sfrontatezza tentano infatti di rubare nel suo negozio e lui pubblica le loro fote sui social venissero a denunciarmi per la così per l'infrazione alla privacy per la violazione alla privacy voglio vedere se hanno questo coraggio li attendo qui con polizia e carabinieri il post è stato pubblicato nel primo pomeriggio di Ferragosto da Aquashop di Fano il distributore a gettoni di bevande di via Pisacane dove si vedevano chiaramente i volti di due individui che poco prima avevano tentato un furto all'interno della struttura di proprietà dell'imprenditore fanese Leo Scortechini prima ho consegnato le immagini alla polizia ha raccontato e poco dopo le ho pubblicate online ben sapendo cosa stavo facendo quindi una certa reazione che ovviamente acquista la solidarietà delle vittime e non certo di coloro che hanno compiuto questi atti importante l'iniziativa della breakdance di cui abbiamo parlato anche il resto del Carlino la evidenzia appuntamento sabato alle 16 all'arena BCC in pista atleti provenienti non solo da tutta Italia ma anche da diverse nazioni da Francia e addirittura dal Peru super ospite il campione coreano Boy Bruce Lee Grilli all'inizio vent'anni fa eravamo pochissimi Grilli appunto Lorenzo Grilli in arte Boy Zen ballerino professionista istruttore oltre che giudice olimpico di questa specialità nulla contro Pergola Biancani ricuce con i medici ha capito che forse è uscito fuori dalle righe nell'usare quella espressione i medici che giocano a carte all'ospedale di Pergola il consigliere vicepresidente del consiglio regionale del partito democratico Andrea Biancani ora un po' ridimensiona le sue dichiarazioni nulla contro Pergola dopo la frase incriminata i dottori giocano a 3-7 il vicepresidente del consiglio regionale spiega il mio intervento era contro il piano sanitario ovviamente non era contro i medici sanità provinciale frammentata in tanti doppioni anche sul Carlino a centro pagina abbiamo la repica di Rosetta Fulvi segretaria del PD all'intervento di Fratelli d'Italia visione Ancona centrica ovvero non trascurando quello che accade all'ospedale Santa Croce di Fano si accentrano tutte le specialità più importanti ad Ancona e questo secondo la Fulvi sarebbe un po' la visione della sanità che ha il centro destra vediamo ancora le pagine di Urbino la festa del Duca la festa del Duca è davvero di tutti i cittadini il sindaco Gambini ho visto una grande novità quest'anno la partecipazione corale di tutti grazie alle contrade e vediamo qui in una bella fotografia il sindaco Gambini con Maria Francesca Crespini e Vittorio Sgarbi che hanno preso parte a questa manifestazione di rievocazione storica di cui fa parte anche l'Aita un gioco particolarmente crudo rozzo interessantissimo bellissimo a vedersi una sfida tesa e persino allegra intitola il Carlino pubblico invisibilio per lo scontro tra Gialli e Turchini alla fine hanno vinto gli agguerriti popolani la mia vita rovinata da una strada non finita la signora Anna Carrino si appella al comune il tragitto verso il suo bed and breakfast viene cambiato e peggiorato anni fa è l'ultima notizia con la quale chiudiamo la nostra rassegna stanta dandovi appuntamento domani alle 7 grazie per l'ascolto a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.